GM Termosanitari. Qualità, professionalità, esperienza. A Roveletto di Cadeo. Telefono 0523 500 639 www.gmtermosanitari.it I residenti di Corso Vittorio Emanuele a Piacenza hanno raccolto 200 firme per avere più controlli e dire basta a degrado, senso di insicurezza e musica ad alto volume, soprattutto la notte. Una pensionata di Gossolengo ha ricevuto un messaggio sul proprio cellulare con il quale veniva richiesto un versamento in denaro perché il figlio aveva rotto il proprio telefonino. È la nuova truffa, sempre più diffusa, a cui però la donna non ha abboccato, indagano i carabinieri. Dalla prossima settimana, nuovo menù nelle mense scolastiche di Piacenza. Dopo le polemiche sollevate da diverse famiglie, Comune e Azienda Sanitaria fanno un passo indietro. Addio alla pasta con il cavolfiore, al ragù di legumi e alla pasta pasticciata. Sono stati più di 350 gli studenti che hanno partecipato alla prima giornata di Benvenuti Sportivamente in Prima, progetto che punta a far scoprire a ciascun ragazzo la propria disciplina. Al Campus Dordoni testa per valutare la resistenza e le attitudini sportive, dal salto con la corda alla corsa a ostacoli. Tutte le altre notizie in tempo reale sono come sempre disponibili sul nostro sito www.liberta.it